Benvenuti nel mondo degli orologi Chanel. La storia degli orologi Chanel è unica e affascinante, tanto quanto la vita della sua fondatrice, Gabrielle Coco Chanel. Tra le sue grandi passioni, Coco Chanel ebbe quella per i gioielli e gli orologi. La stilista utilizzò questi elementi per donare sfarzo e impreziosire le sue più celebri creazioni. Gli orologi Chanel divennero presto sinonimo di eccellenza e di design provocante, attingendo ai motivi distintivi della Maison e diventando tra i più ambiti dall'élite della moda. La collezione di orologi Chanel ha visto la luce per la prima volta con l'orologio Premier. Questo orologio definito non convenzionale, ha unito l'influenza architettonica con i concetti di design della bottiglia di profumo Chanel numero 5 e della borsa Chanel 2.55, dando vita a un design unico. Il J-12 è probabilmente l'orologio Chanel più celebre e iconico. Giunto al suo ventesimo anniversario, è diventato una vera e propria leggenda. La produzione di orologi Chanel è cresciuta notevolmente dopo il successo del J-12, rilasciando nuove complicazioni e novità mondiali. Nel 2010 è stato lanciato il J-12 Retrograd Mysterious, un design complicato con una corona verticale retrattile in corrispondenza dell'indicatore posto alle ore 3. La nuova collezione Chanel Boyfriend è l'ultima aggiunta alla famiglia degli orologi Chanel. Il design prende spunto da modelli di altre Maison come l'originale Cartier Tank e il Patek Philippe Vintage. Tuttavia, guardando più da vicino, si può apprezzare la cura per i piccoli dettagli che lo fanno diventare un pezzo unico. Gli orologi Chanel rappresentano un perfetto connubio tra eleganza, design innovativo e artigianalità di alta qualità. La produzione di orologi Chanel continua a essere una forza importante nel mondo dell'orologeria, sempre alla ricerca di nuove complicazioni e design provocanti. Con la loro identità unica e distintiva, gli orologi Chanel sono ambiti dalle donne di tutto il mondo che amano il lusso e l'eccellenza artigianale.